L'impegno per le infrastrutture delle Marche ha riguardato e riguarda anche la stazione ferroviaria di Fano, di cui mi sono occupato direttamente dopo quella notizia che ha colpito tutti noi della mamma con il figlio di Sabile che proprio lo scorso Natale non è riuscita a salire sul treno a causa della vetustà della infrastruttura. Allora mi sono rivolto immediatamente a RFI dove ho trovato grande sensibilità e oggi sono in grado di annunciare la partenza di lavori di straordinaria manutenzione dal settembre prossimo, lavori della durata di nove mesi per oltre un milione di euro che riguarderanno per l'appunto la straordinaria manutenzione dell'immobile viaggiatori, del sottopasso ferroviario ma anche delle pensiline e poi un upgrade della tecnologia per quanto riguarda l'illuminazione dell'area esterna e l'attuale illuminazione sarà sostituita con illuminazione a led e vi sarà un upgrade anche della tecnologia dell'ascensore a servizio della stazione ferroviaria con anche implementazione dell'impianto di videosorveglianza e realizzazione di una copertura in caso di precipitazione e poi a ciò si aggiunge un'altra bella notizia. La stazione di Fano è stata inserita nel piano integrato delle stazioni italiane ciò comporterà in via prioritaria la realizzazione di un secondo step di lavori che saranno progettati già nel 2025 per l'amodernamento della infrastruttura e anche delle opere ferroviarie. Questo è sicuramente un risultato del buon governo della filiera istituzionale che parte dal nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per arrivare al Presidente della Regione Francesco Acquaroli passando attraverso noi parlamentari marchigiani.